Sappiamo benissimo della volontà di Sony di portare le icone PlayStation sul grande e sul piccolo schermo, dando ai personaggi che tanto abbiamo amato nei videogiochi una dimensione tutta nuova, come testimonia l'uscita proprio in questi giorni del film ispirato ad Uncharted, con protagonista Tom Holland. Aspettando dettagli concreti sui vari progetti in corso, sono emerse nuove informazioni relative alla serie TV di The Last of Us, realizzata in coproduzione con HBO. Prima di continuare vi ricordiamo di iscrivervi al canale attivando le notifiche per rimanere sempre al passo con le notizie di apriai.it. Partiamo da un'indicazione temporale. Contrariamente alle aspettative di molti che speravano di vedere un primissimo spot promozionale durante il Super Bowl di domenica scorsa, è ormai chiaro che la serie TV di The Last of Us non vedrà la luce nel 2022. A confermarlo ufficialmente è stato il responsabile dei contenuti di HBO Casey Bloys, spiegando che al momento manca ancora una possibile data di lancio concordata in quanto lo show risulta ancora in piena produzione. The Last of Us è in fase di riprese in Canada. Non abbiamo ancora annunciato una data di uscita, ma non sarà nel 2022. Stanno ancora girando a Calgary. Ha candidamente ammesso Bloys, rinviando dunque la fatidica ora X all'anno prossimo. Se quindi si allontana il momento in cui avremmo modo di vedere Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie, attori già visti e particolarmente apprezzati nel Trono di Spade, dove interpretavano rispettivamente Oberyn Martell e Liana Mormont, non sono mancati spunti sulla qualità della serie e sulla sua ambientazione, che differirà dal videogame in almeno un particolare significativo. È stato proprio Pedro Pascal a prendere la parola per rassicurare i fan sulla coproduzione firmata da Neil Drachman di Naughty Dog e Craig Mazin, già sceneggiatore dell'eccellente Chernobyl. Io penso che l'adattamento cinematografico sarà più che all'altezza del gioco originale. Non ho assolutamente dubbi sul fatto che riusciremo a non deludere i fan del gioco, così come i nuovi spettatori. Sono queste le parole con cui la star di Game of Thrones e The Mandalorian si è detta assolutamente fiduciosa sulla qualità di un adattamento che punta a diventare un vero e proprio termine di paragone. Per quanto riguarda invece la trama della serie, si segnala un cambio piuttosto significativo in termini di scenario. La devastante piaga che porterà al collasso del genere umano e all'invasione dei cordyceps verrà anticipata nello show televisivo dal 2013 al 2003. Anche le vicende ambientate nel presente, con la civiltà in rovina e la difficile sopravvivenza dei pochi superstiti non avranno più luogo nel 2033 come nel videogioco, bensì dieci anni prima, ovvero nel 2023. Una contemporaneità che ancora non è stata pienamente motivata dagli sceneggiatori, che non dovrebbe ad ogni modo stravolgere nulla dell'affascinante ambientazione decadente di The Last of Us. Anche il cast della serie si espande. Come riportato dal portale Deadline, infatti, l'attrice Storm Reed vestirà i panni di Riley, la ragazzina coprotagonista di Ellie nello splendido DLC The Last of Us Left Behind. Aspettando il primo trailer ufficiale, che a quanto pare potrebbe farsi attendere per diversi mesi, passiamo la parola a voi. Siete soddisfatti delle premesse che riguardano lo show tv basato sul franchise a marchio Naughty Dog? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.